buongiorno a tutti come eh tutti sapete il trentuno dicembre è morto il papa emerito eh Benedetto sedicesimo ovviamente una notizia che è stata eh presa in modo diverso a seconda eh degli ambienti delle tendenze eh delle delle dei delle correnti di pensiero allora eh io ne voglio parlare con il mio amico e che tutti voi anche conoscete Aldo Maria Valli che si è molto occupato di Benedetto sedicesimo eh e che adesso sta eh preparando una nuova edizione del suo libro su Benedetto sedicesimo che si chiamerà il pastore e i lupi eh ricordando Benedetto sedicesimo e in cui ripercorrerà il suo pontificato e e poi anche il tempo in cui è stato pape merito fino alla sua morte di due giorni fa il libro speriamo eh sarà pronto molto presto eh alla fine di gennaio noi speriamo sarà pronto e sicuramente sarà un un punto un po' su questo eh pontificato così complesso e anche così tormentato e contestato allora eh grazie ehm Aldo Maria per la tua eh partecipazione e voglio eh cominciare ehm chiedendoti questo eh il il titolo del nostro programma è ehm l'eredità di Benedetto sedicesimo allora secondo te eh in due parole qual è questa eredità? Buongiorno Aurelio grazie per l'invito mh sentiamo parlare molto in queste ore di Benedetto sedicesimo siamo a poca distanza dalla sua morte quindi tanti se ne stanno occupando con valutazioni diverse io mi permetto di proporre la mia l'ho definito e torno a definirlo il papa della verità perché credo che lui abbia messo al centro del suo pontificato proprio la questione della verità una questione che per la modernità per il pensiero contemporaneo sembra non essere di pertinenza della ragione umana in quanto si ritiene che una verità assoluta non possa esistere e che al più possano esistere soltanto tante verità quante sono le quanti sono gli esseri umani stessi e l'unica composizione che si possa raggiungere così pensa il mondo è quella di trovare un accordo tra le tante verità e una sorta di equilibrio basato sul principio della maggioranza il papa benedetto eh da buon teologo ha proposto invece di di tornare a interrogarsi sulla questione della verità e di allargare lo spazio della ragione che cosa intendeva con questa espressione riteneva dire che la la lo spazio della ragione umana non si esaurisce in ciò che è sperimentabile con la mera esperienza pratica delle della singola persona del singolo individuo ma può attingere alla dimensione dell'assoluto anzi non solo può ma deve attingere alla dimensione dell'assoluto quindi cercare una verità assoluta perché ciò che ci rende uomini ciò che ci rende pienamente uomini è proprio questo desiderio questa sete di assoluto ecco credo che questo sia il motivo per cui io lo oso definirlo il papa della verità ha rimesso al centro del del pensiero la questione della verità e lo ha fatto in modo molto mite circa il suo atteggiamento perché papa francesco a dispetto di come c'è stato dipinto papa benedetto scusate a dispetto di come c'è stato dipinto è stato un uomo estremamente mite gentile umile ma lo ha fatto con grande forza con grande coraggio e con grande determinazione quindi un contributo che lui ha dato non solo a noi cattolici ma direi all'umanità intera al pensiero contemporaneo e forse è stato l'ultimo pensatore che ha osato riproporre la questione della verità una battaglia la sua condotta quindi di conseguenza anche contro il relativismo morale imperante una battaglia difficile che non a caso lo ha messo in contrasto con con il mondo con la il pensiero del mondo e di cui gli attacchi notevolissimi che lui ha ricevuto per cui il suo pontificato è stato tutto una una battaglia fin dall'inizio è stato attaccato è stato addirittura denigrato i cosiddetti scandali per la questione degli abusi nella chiesa sono stati utilizzati strumentalmente proprio per condurre un duro attacco una dura battaglia nei suoi confronti quindi il suo pontificato ha avuto questa dimensione drammatica molto molto accentuata. ma io volevo dirti che eh a me sembra che in questi giorni c'è quella specie di liturgia per cui ehm le persone che anche ne avevano parlato malissimo fino a due giorni fa adesso eh si eh si profondono in lodi e fanno sembrare come se eh loro fossero stati i più grandi sostenitori di Papa Benedetto la qualcosa non è vera io invece credo che sia necessario vedere eh Papa Benedetto anche ehm nelle sue ombre cioè luci e ombre perché eh voglio dire non possiamo pensare che ehm ha fatto soltanto cose buone come per tutti eh ovviamente ha fatto anche delle cose eh meno buone io vorrei ricordarti perché ehm eh non solo il libro del eh professor eh Enrico Maria Radaelli che tu eh conosci e e e su cui non è che dobbiamo stare eh essere d'accordo per forza però è comunque un libro eh molto eh molto voluminoso in cui lui fa delle critiche molto forti e il professor Radaelli certamente è una persona che sa il fatto suo ma non solo questo vorrei ricordarti anche la prefazione a questo libro di Monsignor Livi che anche tu ben conosci dove Monsignor Livi dice che ehm tutti i problemi eh della teologia eh contemporanea sono venuti da eh Joseph Ratzinger adesso è per è un giudizio molto duro molto severo però dobbiamo tenere conto anche di queste cose tu che ne pensi? Sicuramente sì ovviamente in queste ore noi viviamo sul filo dell'emozione quindi ecco anche perché di tanti commenti che eh esaltano in un modo o nell'altro la figura di Benedetto XVI magari arrivano proprio da chi fino a poco tempo fa invece lo lo criticava anche aspramente questo è il prezzo che paghiamo all'emozionalismo che è tipico della nostra epoca della comunicazione di massa dominata dai dai mass media appunto a mente lucida a mente fredda dobbiamo e lo dovremo fare sempre di più nei giorni prossimi nel tempo che che ci attende affrontare anche le ombre appunto come dicevi tu del pontificato di Benedetto XVI perché a fare questo lavoro ci aiuta anche a capire in quale fase realmente siamo della vita della storia della Chiesa ehm evidentemente ehm io in questo momento pur con tutto l'affetto eh figliale nei confronti di Benedetto XVI con il quale ho avuto anche una frequentazione personale devo devo tuttavia rilevare che eh queste ombre eh ci sono e mh affrontare questo argomento non è facile non è questione semplice eh riducibile a poche parole ma direi così mh Josef Ratzinger è stato è stato un figlio del concilio Vaticano II un figlio e un interprete e un un esponente di primissimo piano era molto giovane all'epoca indubbiamente era un giovane teologo ma già affermato in Germania tanto è vero che il il cardinale Fring lo lo volle come suo consulente proprio in questa veste di consulente lui partecipò come perito al concilio e eh possiamo dire che ehm sposò la causa del concilio ecco lo dico in modo molto semplice ma la questione è questa quindi l'idea del rinnovamento della Chiesa del fatto che la Chiesa debba trovare un accordo con il mondo e che ci debba essere un dialogo costante Chiesa mondo è penetrato ehm questa idea è penetrata in profondità nell'insegnamento eh del teologo Ratzinger e poi del Papa Benedetto XVI e di qui tutta una serie di di conseguenze per cui seppure è stato un uomo che ha cercato di eh far fronte alla deriva modernista della Chiesa sotto molti aspetti dall'altro possiamo notare che come ha messo molto bene in evidenza il proprio professor Radrelli nel suo libro il quale di Ratzinger è che che i germi alcuni germi chiamiamoli così del modernismo comunque del progressismo sono presenti anche proprio nell'insegnamento di Josef Ratzinger Benedetto XVI e il il germe principale è proprio questo che l'idea che la Chiesa debba ricevere qualcosa dal mondo che si tratta di quindi di trovare una sorta di di accordo e che non sia invece tanto la Chiesa che debba che debba convertire il mondo ovvero lo sto dicendo evidentemente in termini molto semplici perfino quasi banali ma lo faccio per un'esigenza di di comprensione da questo punto di vista rivelatore è il discorso che eh Benedetto XVI fece proprio alla fine del suo pontificato era il 2013 si rivolse per l'ultima volta al clero di Roma ai parroci al clero di Roma con un discorso storico e lì volle affrontare eh questo è significativo proprio il tema del concilio lui disse ci fu un concilio eh reale dei padri conciliari e poi ci fu un concilio dei media e le deviazioni tutte le deviazioni tutte le aberrazioni che noi oggi viviamo di cui oggi paghiamo le conseguenze nascono dal fatto che c'è stata un'interpretazione sbagliata del concilio che ha prevalso la il concilio dei raccontato dai mass media piuttosto che il concilio per ciò che è veramente stato quindi da parte sua una difesa ehm una forte difesa del concilio Vaticano II come non poteva essere diversamente visto che lui è stato appunto come dicevo un interprete uno tra gli interpreti principali e tutto ciò che di erroneo è venuto dopo dice disse benedetto in quel discorso è stato a causa di un'errata interpretazione di deviazioni in debite noi invece che amiamo la tradizione noi che ci interroghiamo sulle derive della chiesa riteniamo che il problema sia proprio il concilio stesso l'abbiamo detto anche in un libro che tu eh caro ehm Aurelio hai pubblicato sul concilio Vaticano II con voci in controtendenza rispetto alla alle interpretazioni dominanti e ehm e qui c'è un grande un grosso problema su cui interrogarsi per quanto come si diceva prima benedetto XVI sia stato un baluardo contro la la modernità forse l'ultimo baluardo espresso dalla cultura ehm occidentale di ispirazione cristiana lui stesso nel suo stesso insegnamento ci sono sintomi germi oso chiamarli così di questa eh dimensione conciliare che poi è quella che ha aperto le porte alla all'eresia e all'apostasia quindi una un un dramma direi proprio così un dramma nella persona e nel pontificato di Benedetto XVI che un dramma che con il massimo rispetto noi dobbiamo però sviscerare affrontare se vogliamo veramente capire qual è la situazione nella chiesa oggi e a che cosa stiamo andando incontro eh io vorrei ehm soffermarmi su quanto stai dicendo perché ehm come tu hai giustamente ricordato ehm Benedetto XVI ha affermato che ci fu un concilio dei padri conciliari e un concilio dei media ma in realtà noi vediamo che molte delle ehm cattive eh interpretazioni eh sono venute anche dai padri conciliari cioè molti hanno voluto leggere il concilio e forse eh alcuni documenti del concilio favorivano questa lettura in un modo ehm largamente progressista vorrei anche ricordarti che sul nel libro ultime conversazioni eh Benedetto XVI eh quando fu interrogato dal giornalista eh Peter Seewald sul concilio lui ha detto noi eravamo progressisti cioè lui ha ammesso che la tendenza che veniva seguita da lui e da molti ideologi era quella appunto di tipo eh progressista poi ehm c'è anche il discorso che lui pochi anni dopo la fine del concilio ha avuto un cambiamento anche se lui dice che sono gli altri che sono cambiati e non lui però in realtà lui ha avuto un ripensamento che poi si è anche ehm manifestato nella sua uscita dalla rivista eh concilium e nel nel suo contribuire a creare una nuova rivista comunio che in un certo senso eh rappresentasse una visione più moderata di quello che era il eh concilio Vaticano II quindi a a me sembra che in tutta questa questione eh ci sia ehm molta eh ambiguità no? Il concilio dei media non dei media i padri conciliari eh lui che prima ehm è uno diciamo dei eh dei motori del cambiamento del concilio e poi eh dopo ci ripensa poi lui dice che non è lui che ci ha ripensato ma ci hanno ripensato gli altri non non ti sembra che ci sia molta confusione? Sì c'è e questo credo sia proprio il momento di portare un po' di chiarezza senza cadere nel settarismo senza voler alimentare polemiche inutili ma proprio cercando a mente lucida di capire ciò che è stato guarda io ho proprio avuto avvertito l'esigenza questa mattina prima di parlare con te di andare a rileggermi il discorso appunto che Benedetto XVI fece ai parroci al clero di Roma e ho notato come lui proprio abbia abbia usato anche in quel discorso già il fatto che lui abbia avvertito l'esigenza di affrontare il tema del concilio in quel suo ultimo intervento così autorevole è significativo vuol dire che il tema del concilio in lui stesso nella sua anima nella sua ovviamente occupava un uno spazio privilegiato era era lì il nodo e lui in quel discorso ha usato spesso la parola rinnovamento eravamo pieni di entusiasmo dice volevamo aprirci al mondo speravamo che tutto si rinnovasse che venisse veramente una nuova Pentecoste ecco lui faceva parte di questa schiera di innovatori di rinnovatori ci credeva pienamente poi a un certo punto resosi conto di ciò che era stato scatenato delle forze che erano state scatenate con questo atteggiamento con il concilio ha iniziato a fare marcia indietro un ruolo una come dire esperienza centrale per lui è stato anche è stata anche quella del 68 quando era insegnante di zoologia in Germania si rese rimase rimase scioccato possiamo dire così dalla contestazione studentesca che entrò anche nelle aule delle facoltà teologiche e che ehm mi fece capire appunto quale tipo di eh uso questa espressione di animale fosse stato scatenato con quest'idea del del rinnovamento no ad ogni costo e lì si spaventò si spaventò di lì iniziò la sua retromarcia che poi lo porterà una serie di atteggiamenti come ehm prefetto della congregazione per la dottrina della fede voluto da papa Voitiva e poi anche come papa Benedetto XVI per questo parlavo di dramma per lui come uomo come sacerdote come cardinale e poi come papa in lui convivono queste due esperienze da un lato figlio del concilio espressione del concilio espressione piena di quei tempi quindi il rinnovamento quindi l'esigenza del dialogo chiesa mondo quindi l'ecumenismo dall'altro lo spavento di fronte alle forze che lui stesso ha contribuito a scatenare insieme ad altri vedendo che la chiesa ha preso una strada completamente eh sbagliata che la porta all'apostasia alla negazione di se stessa all'annullamento nel mondo questo è veramente il dramma di Benedetto XVI e dell'uomo Josef Ratzinger uomo che fra l'altro scusa sì no volevo solo interromperti interromperti proprio per per fare una parentesi sull'uomo eh Josef Ratzinger perché ehm noi stiamo parlando ovviamente dei massimi sistemi però io personalmente che l'ho incontrato eh qualche volta eh sia da cardinale che da papa devo eh testimoniare che era eh un uomo di una gentilezza unica e ho visto che eh in questi giorni eh Vittorio Messori ha fatto un'intervista con la nuova bussola quotidiana in cui diceva che era eh Ratzinger era l'uomo più buono che aveva conosciuto e io anche ti posso testimoniare per quelle poche volte che ho potuto parlarci sia quando era cardinale che quando era papa eh era una persona di una finezza e gentilezza uniche ehm e e metteva a proprio agio tutti coloro che lo incontravano posso fare un piccolissimo racconto tanto per eh dirti quello che ehm voglio esprimere nel duemila e otto io ero organista dell'udienza generale del papa eh lo ero stato da otto anni quindi avevo servito anche Giovanni Paolo II e poi Benedetto XVI nel duemila e io ehm eh dovetti lasciare quell'incarico perché eh mi trasferivo a Macao per lavoro dove poi rimarrò per sette anni. In quell'occasione chiesi a padre Sapienza che era un po' il responsabile lì dell'udienza generale se potevo eh salutare nell'ultima udienza in cui suonavo eh potevo salutare il papa e padre Sapienza mi accordò questo desiderio e quindi alla fine dell'udienza eh dopo aver suonato nell'aula Paolo VI io eh mi misi in fila per eh aspettare che eh passasse Benedetto XVI e e per poterlo salutare. Io ti posso dire ti posso testimoniare come Benedetto XVI veramente si fermava eh magari trenta quaranta secondi un minuto con ognuno che stava lì per salutarlo e quando arrivò da me ehm mi chiese appunto eh cosa facevo perché ovviamente lui non è che poteva sapere tutti quelli che ehm lavoravano intorno all'udienza generale io eh gli disse che ero l'organista ma che stavo per eh trasferirmi a Macao quindi avrei lasciato quel ruolo nell'udienza generale lui eh fu veramente ehm amabile devo dire e mi chiese che cosa andavo a fare a Macao cioè si interessò a me come poi si interessò a tutti quanti eh coloro che ebbero l'occasione di salutarlo quindi dal punto di vista della persona io non posso che parlarne benissimo era una persona veramente eh fine sensibile delicata e gentile una persona ehm veramente ehm io vorrei dire eh che emanava santità ecco in quel senso io veramente non posso che testimoniare in favore di Benedetto XVI ora eh ovviamente eh tu anche hai avuto magari un'esperienza ancora più intensa della mia hai seguito i suoi viaggi apostolici eri un vaticanista quindi eh qual qual è la tua eh impressione in questo della persona Iosef Ratzinger circa la persona posso soltanto confermare quello che tu dici chiunque di noi abbia avuto la fortuna e l'onore di conoscerlo di parlare con lui di frequentarlo può testimoniare che era una persona di una educazione squisita gentilissimo eh mite disponibile veramente interessato all'interlocutore che aveva davanti a sé io ho potuto anche presentargli la mia grande famiglia in due occasioni e in entrambe le occasioni si è interessato a tutti quanti agli studi dei figli alle loro lauree universitarie ehm qualcosa di inaspettato se pensi che appunto stavamo chiacchierando con con il papa in persona la prima volta lo incontrammo quando è ancora era papa rignante la seconda volta quando era già emerito ma davvero una persona squisita ehm io credo che ecco questa sua quello che stavo aggiungendo poc'anzi era questo pensiero questa sua grande educazione questa sua mitezza ehm fu anche un problema nell'esercizio delle delle sue funzioni come papa noi conosciamo la curia romana sappiamo quale ambiente sia come sia difficile ehm quali siano le le tensioni quali siano le tensioni che la traversano ehm io ho avuto proprio questa netta impressione che lui più volte si sia trovato in difficoltà lui soprattutto era un uomo che non riusciva a dire di no che non aveva la forza per imporsi ehm e questo è un grosso problema questa mancanza è un grosso problema dal punto di vista del del governo della della chiesa in un ambiente ripeto come quello della curia romana d'altra parte dobbiamo pensare che lui per ben due volte si è trovato a esercitare un ruolo che non voleva perché lui sia come prefetto della della congregazione per la dottrina della fede sia come papa si è trovato a fare qualcosa che non voleva fare lo ha detto lo ha detto molto sinceramente e lo sta ribadendo in queste ore il suo segretario Monsignor Georg ehm fu Giovanni Paolo II a volerlo fortissimamente alla all'ex sant'uffizio quando lui invece voleva dedicarsi ai suoi studi ai suoi libri fare il teologo a tempo pieno e io gli direi per tre volte perché lui non voleva fare neanche il vescovo eh no esatto bravo non voleva fare neanche il vescovo quindi per tre volte per tre volte e poi tanto a maggior ragione come come papa quando dopo ehm l'esperienza alla congregazione per la dottrina della fede lì finalmente pensava di potersi finalmente dedicare ai suoi studi e poi venne a usci lui come papa dal conclave eh questo ci dice anche della difficoltà caratteriale con cui lui ricoprì eh questi incarichi che lo costrinsero ad ad avere ehm responsabilità di governo quando invece il suo orizzonte era completamente diverso era quello degli studi dell'analisi dell'approfondimento ehm è importante anche considerare questo modo col quale lui affrontò e questa ehm riflessione ci aiuta anche a capire eh poi eh ad arrivare alla sua rinuncia perché lui in effetti eh al di là di tutte le di etrologie che possiamo fare ehm fece capire fece capire di essere arrivato alla rinuncia eh con la consapevolezza di non riuscire più a a governare la barca di Pietro eh lui fece capire che non ne poteva più che la macchina non gli rispondeva non rispondeva ai comandi che il governo ormai era stato messo in un angolo tu ricorderai no eh Aurelio eh gli scandali vatilix la questione dello ior ehm eh tutte quelle vicende la pedofilia gli scandali in alterno della chiesa che in quegli anni misero veramente il papa e il vaticano in un angolo e lui pensò che uscirne ehm sarebbe mettersi da parte farsi da parte sarebbe stato un grande servizio alla chiesa ci voleva disse lui qualcuno più più forte più energico più giovane più e venne così l'era di di papa Francesco con tutto quello che che conosciamo e quindi questa dimensione psicologica umana è molto importante ne dobbiamo tenere conto e va messa ehm nell'analisi che dobbiamo fare di questo pontificato ripeto con tutto l'affetto possibile con tutto l'amore ma anche a mente lucida perché se vogliamo veramente analizzare i problemi della chiesa io vorrei rimanere un attimo sulla rinuncia perché eh a me è sembrato che quello è stato un altro momento di grande ambiguità nel senso che lui ha deciso di rinunciare come lui ha detto alla potestà dell'ufficio quindi all'ufficio e non eh sappiamo che ci sono tutte le questioni sollevate dal libro codice Ratzinger che tu anche hai trattato nel tuo blog Duc in Altum ma non parliamo di questo ora però è anche vero che lui si è ehm con una brutta parola dimesso anche se una parola scorretta da papa però ha voluto mantenere l'abito bianco eh si è fatto chiamare papa emerito e mh si ehm quando eh lo si incontrava eh bisognava comunque chiamarlo eh vostra santità insomma mi sembra che tutto questo non ha fatto altro che aggiungere confusione eh sì è proprio così ehm Benetto XVI a un certo punto rinuncia quando si rende conto di non riuscire più a faccia quando avverte che appunto lui non è più in grado e e tuttavia non non si non si nasconde totalmente non non sparisce dalla dalla scena mantiene questo ruolo inventa il ruolo del del papa emerito che infatti ancora non è stato normato che 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 resta lì come una questione tutta da da affrontare resta in Vaticano mantiene l'abito bianco di tanto in tanto interviene ancora o con la parola o con qualche scritto eh e tutto ciò è fonte di di ambiguità indubbiamente e tutto ciò fra l'altro poi inevitabilmente eh provoca anche una polarizzazione all'interno del mondo cattolico per quanto lui non lo volesse sono sicuro che che non lo voleva nascono i paladini a un certo punto nascono i paladini della chiesa di Francesco e quelli della chiesa di Benedetto era inevitabile che questo accadesse nel momento in cui la chiesa si propone con al vertice due due papi entrambi vestiti di bianco questa quindi una conseguenza molto molto negativa drammatica direi ehm ma tu parlai giustamente della rinuncia io credo ecco che nella rinuncia quando lui lo dico in modo molto semplice banale ma insomma per per intenderci dica io non faccio più il papa ma sono ancora almeno parzialmente papa nella dimensione della preghiera della della contemplazione cioè eh rinuncia a fare il papa ma sia ancora il papa ecco lì introduco un elemento che è tipico se se vogliamo di quella di quel filone eh teologico proprio prima si parlava del concilio no di quegli anni che è è un filone teologico quello degli anni sessanta di un certo progressismo soprattutto di matrice nordica che è che nasce nel segno dell'ambiguità per cui proprio nel momento della rinuncia emerge secondo me viene allo scoperto questo questo filone questa ispirazione che ha segnato la sua esperienza personale e che lì si manifesta proprio in un atto concreto e e anche questi sono elementi che secondo me vanno analizzati attentamente evitando di cadere nel settarismo delle lotte no tra partigiani di una parte dell'altra ma analizzando ciò che è stato ciò che abbiamo vissuto in questi anni. C'è stato quell'episodio della benedizione della statua di San Michele Arcangelo eh se ricordo bene nei giardini vaticani in cui erano presenti sia eh Papa Francesco che il Papa Emerito Benedetto ma l'iscrizione eh l'iscrizione che dice ehm Papa Francesco e gli anni di pontificato e poi eh Papa Benedetto ottavo anno di pontificato cioè è una cosa che io posso capire che metta più confusione che altro nella mente delle persone perché ehm certo poi ci sono alcuni che in questo ci leggono qualcos'altro però io che non ci leggo questo qualcos'altro devo ammettere che comunque si è seguita una strada molto ehm molto confuzionaria insomma non non ehm non posso negare che se si è aggiunta confusione a confusione sì eh questo è evidente e in più direi c'è stata un un cedimento ancora una volta ecco perché faccio il legame con il pensiero conciliare un cedimento alla mentalità del mondo come se il Papa fosse un funzionario qualsiasi un come dire un sì un funzionario come se la sua funzione eh burocratica prevalesse su quella di di tipo spirituale ehm per cui ecco un incarico dal quale nel momento in cui non ci si sente più in forma ci si può staccare ci si può dimettere a beneficio di 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 un'altra persona ma le cose non stanno così noi sappiamo bene che che Pietro non è un funzionario burocratico qualsiasi non è l'amministratore delegato di una società allora eh qui si aprono tanti problemi tanti interrogativi ecco ecco la secolarizzazione del papato di cui molti adesso accusano Francesco ed è vero perché Francesco ha dato un bel contributo ai noi alla secolarizzazione della del Papa e del Papato stesso in quanto istituzione ma questo processo di secolarizzazione inizia molto prima e la rinuncia di Benedetto XVI è un formidabile contributo a a questo e quindi la la confusione ma anche direi la banalizzazione della stessa della stessa funzione papale portata su un terreno su una dimensione sempre più terrena sempre più orizzontale e non più verticale sempre meno sacrale tutti questi sono problemi reali con i quali dobbiamo fare i conti e che ci riportano all'analisi critica del pontificato di Benedetto XVI. Ora ci sono alcuni che ehm paventano ehm le dimissioni di Papa Francesco cioè che Papa Francesco eh stesse aspettando soltanto la eh di partita di Benedetto XVI per il fatto di non avere due papi emeriti e eh per eh appunto eh potersi dimettere. Tu che cosa ne pensi? Ma io cerco di stare ai fatti e i fatti sono che se da un lato Francesco ha rivelato in un'intervista di aver già dato in mano al all'allora segretario di Stato Bertone un foglio che poi non sappiamo dove sia in realtà ma dobbiamo fidarci di quello che dice Francesco con la la sua decisione di rinunciare al pontificato in caso di di malattia anche questa è una definizione alquanto generica ma insomma così ha detto Francesco e se è vero questo d'altra parte sempre in interviste ha detto che si governa con la testa e non con le ginocchia riferendosi e non con le gambe riferendosi ai suoi problemi di deambulazione che quelli sono quelli evidenti no che tutti possiamo vedere attraverso le immagini il bastone la sedia a rotelle quindi se stiamo a queste affermazioni diciamo che il pensiero c'è ma ma c'è anche l'idea che al momento non sia necessario arrivare alla rinuncia perché il Papa anche se impedito in questo senso dai problemi alle gambe lui ritiene di poter ancora governare non vedo quindi all'orizzonte a perlomeno immediato una nuova rinuncia d'altra parte ritengo che il al di là di tutto quello che si è visto in questi anni Francesco non abbia vissuto molto bene la presenza di di Benedetto XVI sì l'ha definito un nonno saggio ci sono stati le strette di mano ci sono state le visite però ecco Francesco ha sofferto in realtà questa presenza un po' incombente e e ora che questa presenza non c'è più credo che Francesco abbia anche il desiderio di di governare in solitudine per almeno un certo tempo certamente di Papa Benedetto XVI si parlerà ancora a lungo e molte delle sue ombre diciamo verranno sviscerate dai vari studiosi ma certamente verranno anche messe in luce tutte quelle cose belle e positive che lui ha fatto per la chiesa sia come teologo che come eh prefetto della congregazione per la dottrina della fede e anche poi come Papa io eh ti ringrazio per la tua partecipazione a questo streaming e ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltato e do appuntamento per le nostre prossime trasmissioni grazie tanto grazie a te Aurelio un saluto e un abbraccio a tutti grazie a te Aurelio un saluto